Ben trovati al meteo, pressione atmosferica meno forte al nord, tempo sempre in prevalenza buono, non mancherà qualche temporale. A seguire poi il mese di agosto si aprirà con un clima un po' più fresco. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 31 luglio. Sul Veneto il weekend inizia con un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio acquazzoni sulle Alpi in serata e poi durante la notte crescente instabilità anche altrove. Attenzione perché il nostro territorio si troverà ad essere area di confluenza tra masse d'aria molto calda e umida e correnti un po' più fresche e dunque potremo avere fenomeni violenti con grandine e forti colpi di vento dunque prestare la massima attenzione. Vediamo anche le temperature che saranno stazionarie minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole su tutti i settori, entro la nottata qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 29 e 32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove andrà meglio al mattino, dal pomeriggio però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 17 e 18 gradi, massime infine sui 30 e 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.